Il centro studi Sohen ha sempre avuto a cuore l'insegnamento, un insegnamento che storicamente è sempre stato rivolto ai medici, ma negli ultimi anni sono sempre di più le persone che ci chiedono come fare ad approfondire gli aspetti della energetica civile. Per questo motivo ci siamo chiesti perché non fare un corso per i non medici? Naturalmente non tutti si avvicinano a questo mondo con le stesse motivazioni. C'è chi è spinto da una semplice curiosità, vuole imparare qualcosa di più di quello che è scritto semplicemente nei libri. Esistono invece altre persone che vogliono andare a fondo nella comprensione dei meccanismi energetici alla base dell'essere umano. Sohen ha pensato a un corso che sia adatto a tutti questi livelli di conoscenza, un corso frazionabile, in modo che ognuno possa scegliere se fare un corso completo oppure approfondire gli specifici aspetti che più gli interessano. Il nostro corso base sarà composto da quattro lezioni che esporranno i fondamenti della medicina cinesi. Il nostro corso avanzato permetterà invece di entrare più in profondità all'interno di quelle dinamiche energetiche tipiche della tradizione orientale. Non mancheranno le parti pratiche come una parte legata alle tecniche complementari come la moxigustione e la completazione, ma faremo anche moduli sulla dietetica, sulla fitoterapia e molti, molte anche alcuna. Nel nostro corso di energetica cinese potrete scegliere di farvi accompagnare da noi all'interno di un percorso e scegliere voi quanto in profondità andare a seconda del vostro tempo, della vostra curiosità o semplicemente della vostra voglia di imparare. Stiamo lavorando per voi mettendo a punto tutti i dettagli. Tenete d'occhio il nostro sito, la nostra pagina facebook Milano novembre 2017. Si inizia! Ciao!